A Londra sono andato nel 2003, prima abitavo a Dublino e cercavo un lavoro nuovo, quindi ho mandato i curriculum in giro per l'Europa ed è capitata questa occasione a Londra. A Londra tal'altro, diciamo che comunque mi è sempre piaciuta e avevo un'idea già dall'inizio di andare là. E il fattore non secondario, a Londra c'erano anche i voli diretti da Rimini con la Ryanair, che ho usato appunto inizialmente nel 2000, andavo a Dublino passando da Londra e ovviamente dal 2003, quando mi sono trasferito a Londra, ho cominciato ad usare questi voli. Nel 2012, quando la Ryanair se ne è andata dall'aeroporto, diciamo che per me è stato uno shock in quanto mi ero abituato appunto alla comodità di avere un volo da Rimini. In realtà pensavo che con la nuova gestione, quando la nuova gestione ha preso in mano l'aeroporto nel 2015, visto che tutti gli altri voli dalla Russia e dalla Germanair erano stati ripristinati, speravo che qualche volo per il Regno Unito fosse partito, anche solo per dire nella stagione estiva. E così appunto ad agosto, quando ho visto che ormai anche per la stagione estiva non c'era possibilità di voli, ho deciso di iniziare questa impresa della mia campagna, appunto UK to Rimini Flights, con l'intenzione iniziale appunto di vedere se ci fosse stato interesse da parte dei britannici per questi voli. In realtà parlando appunto con i miei amici in generale, con i riminesi, sapevo che da questa sponda c'era molto interesse. Niente, quando ho fatto partire la pagina, diciamo che nelle prime settimane subito l'interesse è stato molto alto e ho cercato di pubblicizzarla, tra virgolette, nel senso che partecipavo a forum di discussione su viaggi oppure ad esempio anche quando c'è stata la partita a San Marino-Inghilterra nei forum calcistici, quando c'è stato il MotoGP nei forum di discussione appunto delle moto, di cercare di vedere se c'era interesse e circa nelle prime settimane subito ci sono stati circa 600 persone che hanno messo mi piace sulla pagina. Poi fortunatamente News Rimini ha messo un articolo, voi avete messo un articolo sul vostro sito e nel giro di un paio di giorni altre mille persone hanno cliccato mi piace, ovviamente tutte riminesi, però comunque diciamo che è stato molto incoraggiante. In realtà sulla pagina cerco di non pubblicare troppo di frequente, soprattutto nel periodo in cui aspettavamo la sentenza del Consiglio di Stato perché non me la sentivo insomma di espormi troppo su questa cosa quando poi magari l'aeroporto avrebbe chiuso di lì a pochi giorni. Però a parte appunto i post che metto in cui cerco di descrivere le bellezze del territorio, c'è anche un lavoro dietro appunto di partecipazione a vari forum cercando di, no di convincere, ma di vedere un po' se c'è interesse per questi luoghi nel mondo anglosassone. Diciamo che il problema principale su questo fronte è che appunto non abbiamo nessuna risorsa finanziaria, quindi non c'è possibilità di fare pubblicità sui giornali o cose del genere. La prima fase appunto penso sia andata molto bene, quella appunto di cercare di capire se ci fosse interesse per questi voli. La seconda fase, la mia intenzione era quella di cercare di pubblicare articoli anche sui giornali britannici e anche su blog, su internet blog in lingua inglese. Sfortunatamente su quel settore è andata molto male, ho mandato lettere ad ogni giornale e ho anche contattato diversi travel blogger su internet e loro, soprattutto i travel blogger, erano disponibili, però mi mandavano sempre le loro tariffe. In pratica per farsi scrivere un articolo bisogna pagare. Tutti i miei piatti che ho ottenuto finora sono tutti dovuti al mio lavoro sui forum principalmente e sul passaparola di Facebook. Il territorio offre molto e lo sto cercando di dimostrare con i post sulla mia pagina, però ovviamente certe persone mi fanno dei paragoni, ad esempio arrivare a Positano è molto difficile, però la gente, gli inglesi ci vanno comunque. Però diciamo che Rimini non offre le bellezze naturali di Positano o della costiera malfitana o posti del genere. Quindi secondo me Rimini compete di più con ad esempio delle località turistiche balneari come quelle spagnole, ad esempio Torre Molinos che agli inglesi piace molto e che in realtà però non è che offre più di tanto. Quello che offre però è la comodità di un volo diretto per cui tu arrivato all'aeroporto con un treno in un quarto d'ora sei sulla spiaggia e quindi secondo me per cercare di invogliare il turista che cerca la spiaggia devi comunque portarlo sulla spiaggia, non puoi pretendere che vada in un altro aeroporto, poi prenda l'autobus per la stazione centrale, poi prenda un treno che ci mette un'altra ora se ti va bene. Questo è stato il mio ragionamento e ho visto che diverse persone appunto la pensano in questo modo, insomma parlando in giro anche tra amici dicono ma perché io dovrei venire a Rimini? A questo punto visto che abbiamo appunto una gestione stabile spero che la gestione riesca a far partire un volo, perlomeno un volo diciamo annuale da qui all'Inghilterra e poi come appunto c'era fino al 2012 vari voli per l'Inghilterra, per varie, non solo per l'Inghilterra, diciamo per il Regno Unito, per varie destinazioni in estate. Da quello che ho visto appunto dai commenti e anche mandando messaggi direttamente alle persone che hanno messo mi piace alla mia pagina, ho visto che c'è una grossa richiesta anche al nord dell'Inghilterra, quindi ci sono tre aeroporti che sono molto vicini, Liverpool, Manchester e Leeds. Secondo me aprendo una destinazione, un volo per una di quelle destinazioni coprirebbe tutta l'area. E' molto interessante anche da parte degli scozzesi, soprattutto della zona di Glasgow. Anche lì mi hanno detto che tempo fa c'era un volo diretto con la Thompson da Rimini a Glasgow in estate e quando l'hanno tolto molte persone sono state dispiaciute perché avevano la loro meta preferita, che era cattolica o gabice, ognuno aveva la sua cesenatico. Adesso appunto che finalmente abbiamo una gestione stabile dell'aeroporto e finalmente posso partire con la terza fase, che è quella di cercare di contattare le compagnie aeree. E quindi il 14 aprile, giovedì 14 aprile, l'iniziativa si tratta di mettere un post, scrivere un post sul sito Facebook di EasyJet, che è facebook.com barra EasyJet, quindi facile. E niente, diciamo che ognuno può mettere quello che vuole, la richiesta ovviamente è quella di voli dall'aeroporto di Rimini al Regno Unito e nei prossimi giorni cercherò di creare anche un'immagine così se le persone che magari non sanno cosa scrivere o non hanno tempo possono caricare l'immagine direttamente per rendere l'iniziativa più facile.